È stato il ricordo di Antonietta Centofanti ad aprire la conferenza stampa di presentazione della stagione estiva dei solisti aquilani. Nella prima conferenza stampa senza di lei, che porteremo sempre nel cuore, ha detto il presidente Fabrizio Dragonetti de Torres, si presenta la ripartenza dell'attività, che è già ripresa di fatto però con dei piccoli concerti e piccole formazioni nei cortili dei palazzi aquilani. I solisti parteciperanno a tantissimi festival, oltre che all'attività in città, con un cartellone ricco di assoluto prestigio. Luglio, agosto e metà settembre saranno pieni di appuntamenti di attività concertistica in tanti luoghi e con ospiti di valore, sia musicisti che non, come Daniele Orlando, Arturo Bracchetti, Massimo Mercelli, Ugo Pagliai, che leggerà alcune pagine del diario di Astor Piazzolla, Sergio Rubini e altre. Il festival di Stresa vedrà l'apertura affidata proprio ai solisti aquilani, con Daniele Orlando, primo violino e capone and bang bet. Adesso ricominciamo a suonare nei festival, ricominciamo a suonare con il nostro complesso da camera. Voglio sottolineare la partecipazione, l'inaugurazione, anzi del festival di Stresa, che sarà ad opera dei solisti aquilani, o al festival dei suoni delle Dolomiti e tanti altri posti sparsi in tutta Italia. Ci sono innanzitutto, non solo musicisti, quindi personaggi dello spettacolo, del teatro, come Sergio Rubini, come Ugo Pagliai, come Natalino Barasso, ma musicisti grandi, a cominciare dal nostro primo violino, naturalmente Daniele Orlando, ma Sonig Chakerian e tanti altri musicisti veramente importanti. Tanti progetti e anche una bella e nuova sede in via 20 settembre. Per la partecipazione ai concerti tutte le informazioni saranno reperibili sul sito, perché sarà necessaria la prenotazione a causa dei limiti imposti dal Covid. Riprendiamo l'attività sia all'Aquila e in altri centri in Italia e all'estero. Teniamo molto alla presenza aquilana, come sapete io, discendo da una vecchia famiglia aquilana, e quindi ci tengo a offrire agli aquilani le possibilità, i talenti che offrono i solisti.